In questo video vediamo vari piccoli trucchi da applicare alle formule e non solo. Il primo, la creazione di una sequenza di numeri crescente, l'abbiamo già vista, scriviamo 1, 2, selezioniamo sia l'1 che il 2 e portiamo giù. Ecco qua. Va di 1 in 1. Se invece voglio andare di 0,5 in 0,5, scrivo 0,5, 1, la differenza è 0,5 e trascinando giù ecco la mia sequenza di numeri crescente che va di 0,5 in 0,5. Questo vale anche per i codici purché finiscano con un numero. Cod.01, adesso anziché trascinare fino a giù faccio un bel doppio clic. Voilà. Torniamo indietro, un altro piccolo problema. Cancellando queste due celle ecco cosa succede con un doppio clic. Si ferma qui credendo in automatico che la riga 7 sia l'ultima. Invece magari vogliamo farlo scorrere fino a giù, quindi stai attento quando utilizzi appunto questa funzione. Vediamo l'ultimo piccolo trucchetto che utilizzo io. Per la selezione avrai visto spesso che seleziono direttamente tutta la colonna o qualche volta anche la riga, spesso la colonna, nelle mie operazioni matematiche e nelle varie formule. In questo caso che succede? Cosa vuol dire A, due punti A per B, due punti B? Siamo in riga 1, quindi prende il valore in riga 1 della colonna A, che è 1, e lo moltiplica per il valore in riga 1 della colonna B. Facendo scendere esegue la stessa operazione, però qui essendo noi in riga 2, prende il valore della colonna A in riga 2, quindi 2 per 1. 2. Qui siamo in riga 3, prende i valori in riga 3, eccetera. Perché utilizzo questa dicitura? Perché la formula non cambia mai. Ecco qui. Come vedi danno lo stesso risultato. La formula è lievemente diversa, però questa cambia piano piano. Quindi se io dovessi eseguire un coppia incolla di questa formula, lo devo e lo posso utilizzare solo in riga 7. Mentre questa è sempre uguale. È sempre giusta, perché va a prendere il valore della riga in cui lo incollo. Per oggi è tutto. Spero che il video ti sia piaciuto. Se è così, condividilo con qualcuno a cui potrebbe essere utile. Ciao!